Con Cistudio siamo al calcio, il Catania prepara la sfida casalinga di domenica contro la Turris mentre è a riposo il Palermo. Neanche il tempo di godersi la vittoria contro la Vibonese che il Catania deve subito buttarsi a capofitto sulla prossima partita, un'altra di quelle insidiose da giocarsi ancora al massimino. Domenica calcio d'inizio anticipato alle 14.30 arriva la Turris, reduce dal pareggio interno con la Juve Stabia e protagonista di un ottimo avvio di campionato. Peppe Raffaele non ha nascosto subito dopo la partita contro la Vibonese le insidie che riserva la gara di domenica prossima e sarà dura anche perché lui sarà costretto a vederla dalla tribuna, prima delle quattro giornate di squalifica per le quali il club rossazzurro potrebbe fare ricorso nel tentativo quantomeno di ridurle. Dall'infermeria non sono arrivate buone notizie, sono tre i rossazzurri indisponibili a causa di lesioni muscolari riportate nelle ultime settimane, Denis Tonucci e Deros Pellegrini torneranno a disposizione nella seconda metà di dicembre, i tempi di recupero di Antonio Piccolo saranno definiti dopo i test in programma nel corso della prossima settimana. Poi c'è Vicente il cui infortunio è grave e sarà disponibile solo a gennaio così è stato messo fuori lista ed è stato inserito nei 22 Noce che va a rinforzare numericamente il reparto difensivo. L'unica novità positiva è che Santurro ha ripresa ad allenarsi con i compagni. Spettatore interessato alla partita tra Catania e Turris è il Palermo che domenica osserverà un turno di riposo ma mercoledì al Barbera dovrà recuperare la partita proprio contro i campani. La squadra di Boscaglia sembra ormai uscita dalla crisi di risultati e sanitaria ed aver ingranato la marcia per viaggiare verso le zone più alte della classifica. Nelle ultime cinque partite solo Ternane e Teramo, prima e seconda del girone, hanno fatto meglio dei Rosanero e il recupero di giocatori come Luperini e Silipo è fondamentale perché allarga il ventaglio di scelte su cui può contare Boscaglia.